L'imprenditore edile Gaetano Menzo, 58 anni, è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione nel centro storico di Enna. A fare la macabra scoperta sono stati due collaboratori dell'imprenditore che non vedendolo arrivare al lavoro sono andati a casa del titolare dell'azienda. Il cadavere è stato scoperto da un fratello della vittima che lavora nella stessa impresa edile di famiglia. Menzo era impegnato in un cantiere a pochi passi dalla sua abitazione e per questo motivo aveva deciso di fare rientro a casa per il pranzo. La polizia, dopo aver cercato per ora il figlio della vittima, Matteo Menzo, di 22 anni, visto allontanarsi da casa visibilmente turbato poco prima del ritrovamento, lo ha rintracciato e arrestato. Lo ha deciso il PM Salvatore Interlandi. Il giovane era nei pressi della questura pronto a costituirsi alla squadra mobile di Enna. Menzo sarebbe stato agganciato dagli agenti che lo avrebbero convinto ad andare in caserma.